Una storia millenaria, i vigneti più straordinari, i riti antichi che raccontano l'isola. Lì dove terra e mare si incontrano, l'ospitalità è una vocazione naturale. I sapori si intrecciano coi saperi e ogni angolo rivela una scoperta. Il vino è il modo più sorprendente per scoprire Ischia. Nei suoi sentori c'è l'anima dell'isola. La nostra missione è coglierla e offrirla a chi ne va in cerca. Un brintesi, un surso, l'incanto di una nuova storia. Settembre a Ischia è andar per cantine. Per maggiori informazioni www.prologo-panselschia.it Per maggiori informazioni www.prologo-panselschia.it Valor mosche.it Per maggiori informazioni.it